viva gesù un caro saluto a tutti oggi siamo in due suor maria e la nostra rosaria bene oggi vogliamo parlare un po del mistero dell'incarnazione di gesù che è venuto qui per salvare tutti noi bene sappiamo che nel mondo c'è un concorrente molto famoso che è un personaggio molto amato e creduto dai bambini babbo natale lui fa concorrenza a gesù e porta dei doni materiali giocattoli più che altro è però gesù ci porta un dono molto più importante che ci serve per la nostra vita quotidiana è il dono dell'amore noi non ha manifestato pienamente nella sua vita fino alla morte di croce e ce l'ha raccomandato tanto quando dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e nel nell'amore troviamo due elementi molto importanti il perdono e la pace l'uno dipende dall'altro non ne possiamo fare a meno se non c'è il perdono non c'è la pace se non c'è la pace non c'è neanche il perdono vero rosaria si è vero e questo amore vicendevole che lui è venuto a insegnarci noi dobbiamo accoglierlo ma soltanto lo spirito santo può insegnarci ad amare perché se noi accogliamo il dono della salvezza accogliamo la sua venuta lui che è mite umile di cuore ci insegna a essere come lui e noi dobbiamo essere trasformati per diventare creature perché siamo tutti fratelli figli dello stesso padre ecco spalanchiamo le porte a cristo apriamo i nostri cuori senza paura e senza vergogna perché tutti siamo fragili e allora amare il prossimo come noi stessi mettendo lui a primo posto allora saremo beati l'unità nella diversità e saremo felici perché il suo amore trasforma il suo amore vince il nemico il suo amore ci dona quella vita che zampilla nello spirito santo e fiumi d'acqua viva sgorgeranno nei nostri cuori accogliete la salvezza e sarete beati grazie a rosaria e vogliamo farvi i nostri migliori auguri di buone santo natale auguri di incontrare l'amore di gesù e per ringraziare il padre del dono del figlio suo diciamo insieme padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male buon natale un abbraccio